Dottor Bovero, quanto detto finora ci suggerisce un'ulteriore domanda. Potrebbe il suo testo, Le tre anime della comunicazione, essere la valida traccia per un efficace processo di insegnamento e apprendimento finalizzato ad implementare quelle che sono le abilità socio-relazionale di un Air Beauty Consultant? Io credo proprio di sì, perché Le tre anime della comunicazione è un libro che in realtà nasce dalla mia storia personale, perché scrivere un libro di comunicazione senza mettersi in gioco personalmente, ritengo che non sia la via per creare uno strumento informativo e formativo efficace. Con Le tre anime della comunicazione ho voluto un po' mettere a nudo quelli che sono i miei punti di forza, i miei punti di debolezza, cercando di esprimere ai lettori ciò che nel mio caso mi ha permesso di scoprire i miei talenti, ma anche ciò che fondamentalmente è da evitare, perché chi si occupa di consulenza e di comunicazione efficace non può e non deve avere paura di raccontare i propri errori, anche perché gli errori per me rappresentano sicuramente qualcosa di utile e da evitare per chi vorrà fare una strada vicino alla mia. Le tre anime della comunicazione parte da un obiettivo semplice quanto efficace, quello di schematizzare proprio al massimo gli elementi chiave di una comunicazione efficace, perché esistono innumerevoli libri di comunicazione, però quanti sono in grado in realtà di esprimere pochi e fondamentali elementi della comunicazione, ma più che di elementi io vorrei parlare di anime, perché l'anima è quell'aspetto che ci differenzia dal resto delle specie viventi, è quell'aspetto così umano che va oltre la conoscenza, è quell'aspetto fatto di mente, corpo, spirito. Ecco dunque che ho cercato proprio di individuare ciò che di basico ci fosse alla base di qualsiasi processo comunicazionale efficace. Allora ho pensato che forse gli elementi più importanti per una comunicazione efficace sono proprio questi tre, l'amore, la passione e il controllo. Qualcuno potrebbe dire tutto qua, beh non è poco, perché in realtà dietro l'amore si nasconde una competenza, un'intelligenza, un talento, che è la capacità di ascolto. Oggi sappiamo che l'ascolto è fondamentale. Ascoltare significa non soltanto aprire le orecchie, ma ascoltare significa andare dentro l'anima di chi ci sta parlando e intercettare tutti quei messaggi nascosti. Perché l'intelligenza sensoriale e l'ascolto ha a che fare con l'amore? Beh pensate a tutte le volte che siete stati innamorati. In fin dei conti non ascoltavate attentamente chi amavate. Allora ecco che tornare a quella situazione, a quella capacità di ascoltare, osservare, percepire tutto ciò che gli altri esprimono attraverso i cinque sensi rappresenta sicuramente il punto di partenza per mettere in atto un processo di comunicazione efficace. Poi non si può dimenticare un altro aspetto importante della comunicazione, che è la passione. Cos'è la passione? Beh la passione è quella capacità di vivere al massimo ogni momento, è quella capacità di andare oltre gli aspetti razionali dell'esistenza, oltre quegli aspetti di calcolo che appartengono più forse ai robot che non agli esseri umani. Ecco, la passione ha a che fare con l'intelligenza emotiva, con la capacità di emozionarsi e di emozionare, ma anche di gestire le emozioni, perché le emozioni sono un po' come la corrente elettrica, possono essere molto elevate, molto forti, anche molto pericolose se non sono guidate nel modo giusto. Ecco che quindi la seconda anima è appunto l'intelligenza emotiva, che è alla base della capacità di creare empatia, perché la comunicazione per essere efficace deve anche essere una comunicazione empatica, una comunicazione nata dalla capacità di chi fa il consulente di bellezza, di uscire dalle proprie abitudini, dalle proprie credenze, da ciò che per lui è normale, ed entrare nella mente di chi è di fronte, per vedere il mondo attraverso i suoi occhi, soltanto in questo modo potrà realmente essere utile al prossimo, e poi c'è il terzo aspetto, quello che forse conosciamo meglio, che è il controllo, è vero che non siamo sempre in grado di controllarci, però è anche vero che fin da bambini veniamo abituati a controllare ciò che diciamo, a fare attenzione alle parole che utilizziamo, però quanto contano in realtà le parole? Tanto, è vero, ma c'è un altro aspetto della comunicazione che è spesso trascurato, che non fa riferimento al cosa si dice, ma al come lo si dice, ecco che quindi entra in gioco un altro aspetto, che è la modalità comunicativa, perché un buon consulente di immagine deve essere in grado di comunicare in modo efficace non solo con le parole, ma anche attraverso l'utilizzo della voce, la voce è una chiave importantissima per aprire i lucchetti dell'anima di chi ci sta di fronte, ma deve anche essere in grado di utilizzare le espressioni, i gesti, in modo efficace, in modo posato, in modo razionale. Ecco che quindi da questi tre concetti di base che sono appunto l'amore, l'apparizione e il controllo, si sviluppa un testo che credo possa a tutti gli effetti rappresentare un po' una linea guida per il consulente di immagine che intende migliorare il proprio stile comunicativo, ma soprattutto intende andare oltre quelli che sono i messaggi verbali e riuscire ad avere accesso a quel capitale di emozioni che rende grande qualsiasi consumatore, qualsiasi cliente, ma qualsiasi professionista.